Salendo il plan di Lyon, ascoltando Shugo Tucumano E poi è passato l'incendio qualche anno fa e ha fatto tabula rasa di tutti i pini Nella domenica delle palme si sentono le campagne della cattedrale di mentore di Saint-Michel Fin quassù Peccato il sole si è velato, però sono sempre i compagni di Shugo Tucumano in cuffia Grazie